Dopo la ripetizione del processo che lo vedeva alla sbarra, l'attore americano Bill Cosby è stato condannato per violenze sessuali aggravate. Contro di lui tre capi di accusa. La denuncia è arrivata da una donna che ha dichiarato di essere stata abusata non solo senza il suo consenso, ma anche in stato di incoscienza, in quanto Cosby le avrebbe somministrato delle droghe in modo da neutralizzare ogni forma di resistenza. La pena sarà decisa in una successiva udienza, rischia fino a 10 anni di carcere e una multa minimo di 25.000 dollari.